Il 4 dicembre parte la rivoluzione copernicana del comune di Avellino in materia di rifiuti. Si estenderà il porta a porta in tutta la città. Sono gli effetti del contratto stipulato a luglio con Irpini Ambiente. L'obiettivo è raggiungere il 65% di differenziate entro il 2018 e superare il concetto di cassonetto. Partirà dalle periferie, quindi tutte le periferie e le case sparse saranno servite da questo nuovo servizio. Quindi ci sarà l'eliminazione dei bidoni stradali. Dopo 15 giorni di sperimentazione il servizio partirà anche sul resto della città utilizzando quello che i tattici chiamano manovra avvolgente. Il nuovo piano, una volta andato a regime, consentirà anche di risparmiare. Attualmente il servizio di raccolta rifiuti costa al comune, quindi poi ai cittadini, tramite l'Atari, oltre 14 milioni di euro con un risultato in termini di servizio assolutamente scadente, indecente. Con il nuovo piano e raggiungendo la percentuale del 65% il costo scenderà da oltre 14 milioni a poco più di 12. Penna poi annuncia multe severe per i trasgressori e controlli serrati che in futuro si attueranno anche con sofisticate tecnologie. Quello del controllo tramite veicoli senza presenza umana, quindi con droni, e quello anche dei cosiddetti bidoncini intelligenti, cioè utilizzando dei sensori da applicare ai carrellati, ai bidoni, che sono in grado di verificare quando questi vengono utilizzati.